Nuovi arredi urbani, panchine, piante e pensilino ombreggianti. Sono queste le novità in arrivo in piazza Bonatti a Monza, con i lavori di riqualificazione partiti proprio in questi giorni. Un intervento da 180 mila euro, nato da un'indagine fatta proprio con i residenti del quartiere San Donato Regina Pacis. Saranno realizzate nuove aiuole grazie alla parziale rimozione della pavimentazione in cubetti e lastre di porfido e dei massetti e sottofondi in cemento corrispondenti. Prevista anche la realizzazione di vasche che ospiteranno alberi e verde al proprio interno, oltre a panchine e pensiline per l'ombra. Le pensiline ombreggianti saranno realizzate in carpenteria metallica zincata e verniciata con pannelli in lamiera sul piano di copertura. Le sedute saranno invece posizionate lungo il perimetro dell'aiuole e saranno caratterizzate da elementi in legno applicati sui muretti di contenimento. La nuova piazza, spiega l'assessore all'ambiente già daturato, garantirà ai cittadini uno spazio che offre maggior comfort, più sicurezza e un maggior numero di posti a sedere all'ombra. Il tutto attraverso la piantumazione di nuovo verde e l'utilizzo di materiali d'alto livello di resistenza e durabilità. Gli spazi saranno riperimetrati definendo ambiti di sosta e aree in cui sarà possibile realizzare strutture temporanee volte alla somministrazione di cibo e bevande. Piazza Bonati, osserva l'assessore al commercio Carlo Abba, cambierà volto e potrà così aumentare la propria attrattività e socialità, offrendo al contempo numerosi spazi per attività commerciali e non solo che si integreranno con la rinnovata vitalità della piazza. I cantieri dureranno circa tre mesi.